Le tre classi che stavano facendo lezioni sono state immediatamente chiuse all'accesso esterno perché si era distaccato un pezzo del muro ed era caduto in terra. Cadendo in terra ha praticamente sfondato la tettoia di plexiglass veramente molto vicino alla sua faccia. Una tragedia sfiorata soltanto per un caso fortunato. È stata infatti ancora una mattinata di grande tensione all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni in Via Piave. Una sessantina di studenti dell'indirizzo, acconciatori ed estetisti stavano facendo lezioni all'interno quando attorno alle 10.30 subito dopo l'intervallo si è verificato il distaccamento dell'intonaco. Una parte del muro è precipitata sulla tettoia di plexiglass che si trova all'ingresso dei laboratori dove si trovavano alcuni alunni ed è caduta in terra sfiorando un docente. Quindi mi sono assicurata che non ci fosse nessun alunno e nessun professore ferito e finito questo abbiamo subito attivato l'emergenza. Quindi abbiamo chiamato i vigili del fuoco, abbiamo avvisato il sindaco Vadi, la provincia e il nostro dirigente dottor Santi. Si tratta del secondo crollo, pochi giorni prima del suono della prima campanella a venir giù solaio e controsoffitto di un'aula. La provincia comunque nel pomeriggio di aerea è intervenuta tempestivamente per risistemare la situazione per cui già dal lunedì i ragazzi potranno continuare a ritornare a usufruire di quelle aule. A questo punto, stando la situazione ossia e quindi i ragazzi potranno tornare dal lunedì a riutilizzare quelle stesse aule, ne mancano quattro ma già sono state individuate grazie alla disponibilità della parrocchia di San Pietro e Paolo nel quartiere Bani di San Giovanni Val d'Arma. È chiaro che la provincia dovrà cominciare a pensare ad un progetto più ampio di intervento e di ristrutturazione di quell'edificio.